Ciao e benvenuto su Top Tech Italia. In questo video ti presenterò, stando ai nostri gradimenti personali, le migliori videocamere spia del 2022. Mettiti comodo e iniziamo. Al quarto posto abbiamo selezionato la telecamera spia SICKBO W8. La telecamera spia SICKBO W8 ha la forma di una penna e ciò vi permetterà di nasconderla ovunque. Ad esempio può registrare una riunione mentre è in tasca, sorvegliare tutto il vostro ufficio. Dovete solo sapere come regolarla in modo che sia molto naturale alla vista. Come tutte le penne si può infilare nella camicia senza che nessuno se ne accorga. Una volta registrati i video è possibile collegare il dispositivo a un computer portatile tramite il lettore di schede o via USB. Inoltre è dotato di una batteria ricaricabile da 340 Ampere. Ciò consente di utilizzare il dispositivo per molto tempo, senza dare nell'occhio. Come sempre su Top Tech Italia se volete avere maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche cliccate sui link nella descrizione, mi raccomando. Al terzo posto abbiamo selezionato la telecamera spia USB IGZ-IZ. Questo modello ha una forma a scatola chiusa in cui è racchiuso un piccolo caricatore USB. Con questo fattore di forma potrete nascondere la telecamera dando l'impressione di alimentare i vostri dispositivi portateli. È così discreto che nessuno lo noterà. Grazie alla sua risoluzione Full HD potrete anche registrare video in alta qualità. Alcuni utenti lo definiscono una TataCam perché è in grado di monitorare la casa o l'ufficio sia di notte che di giorno. Facile da usare, non richiede la connessione wifi per la trasmissione dei dati. È sufficiente inserire una scheda microSD e collegarla a un powerbank. È possibile utilizzarlo per monitorare da vicino i propri figli o persino il proprio partner, in caso di mancanza di fiducia. Al secondo posto abbiamo selezionato la telecamera spia AO Bocam. Questo modello ha una piccola telecamera di sorveglianza che consente di controllare tutto con molta discrezione. È una telecamera dalla forma compatta che può essere nascosta in qualsiasi punto dell'ufficio o della vostra casa. Alcuni utenti la definiscono una mini telecamera in quanto la sua capacità di sorveglianza è di non farsi notare ed è molto impeccabile. Grazie alla sua potente batteria ricaricabile è possibile utilizzarla per un periodo di almeno 6 ore. Inoltre grazie al suo chip avanzato e al suo sistema di raffreddamento non avrete problemi di calore durante l'uso. Ricordate però che questo vale anche se utilizzate la mini telecamera 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E vi ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo trovato per voi cliccate sui link mi raccomando. Al primo posto abbiamo selezionato la telecamera spia 5sky 4k. Qualificato come la migliore telecamera nascosta da alcuni utenti. Questo dispositivo oltre a essere una spia è naturalmente occultabile. In realtà ha la forma di un normale rilevatore di fumo. È possibile quindi installarlo in ufficio o a casa senza destare sospetti. È anche un rilevatore di movimento per eccellenza perché dispone di un'applicazione che vi invierà un avviso sul vostro telefono Android o Apple in caso di movimento con foto di supporto. Questa telecamera è facile da usare grazie all'applicazione Tuya presente sul vostro smartphone. Questo vi permetterà quindi di guardare video ovunque vi troviate. È dotata anche di una batteria a litio ricaricabile. Ciò significa che è possibile utilizzarla per un'intera giornata senza alcun problema. Si consegna di ricaricare il dispositivo per 24 ore prima del suo primo utilizzo. Ora quello che vi invito a fare è molto semplice. Andate nella descrizione di questo video, cliccate sui link e ottenete tutte le caratteristiche tecniche più complete. Se questo video ti ha aiutato a decidere mi raccomando lascia un like, attiva la campanella ed iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nostri video.